Ritorno al passato per garantirsi un futuro tra i pro. E la valutazione è fatta dalla proprietà della Virtus Franca Villa che dopo lo 0-0 casalingo nel turno infrasettimanale della Nuova Redo Arena contro la Turris ha optato per un nuovo cambio di guida tecnica. Addio con Roberto Chiuzzi arrivato sulla panchina bianca azzurra a metà novembre e fiducia ad Alberto Villa, l'allenatore che aveva iniziato la stagione. Per la fine della gestione a Chiuzzi è stato fatale lo 0-0 con la Turris, risultato che ha attestato il mancato cambio di marcia che la società si aspettava dopo il mercato di gennaio, fase della stagione passata anche per il cambio di direttore sportivo passando da Angelo Antonazzo a Matteo Lauriola. In 12 partite con Chiuzzi sono arrivati 10 punti, figli di due vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte con tanti cali di tensione nel finale determinanti per perdere punti. Sotto la lente di ingrandimento anche la gestione del gruppo come le tre sostituzioni effettuate solo al ridosso del novantesimo contro la Turris. Così la società ha deciso di salutare Chiuzzi e di affidarsi a Villa, ancora sotto contratto con il club. Starà l'ex attaccante, 12 punti ottenuti nelle prime 14 partite della sua gestione, guidare la squadra, oggi terz'ultima, quota 22, nella corsa salvezza per le prossime 12 giornate. Si ripartirà dal 3-5-2 e dalla cattiveria agonistica, quella che secondo la dirigenza è spesso mancata fin qui. Primo test lunedì sera, sul campo del Sorrento.